L'Istituto Comprensivo Agropoli San Marco partecipa all'evento nazionale Festa del Piano Nazionale Scuola Digitale, in programma il 19 e 20 gennaio. A due anni dalla definizione del piano che ha stabilito i principali indirizzi in materia di innovazione della scuola italiana, anche in questo anno scolastico il MIUR promuove l'evento che si terrà dal 18 al 20 gennaio ad Agropoli. Eventi, iniziative e confronti per raccontare e approfondire i temi del Piano Nazionale Scuola Digitale, con laboratori, biblioteche e atelier aperti, buone pratiche, gare di innovazione e concorsi per le scuole. Si parte venerdì 19 gennaio alle ore 15 e 30 con il primo caffè digitale, classi virtuali e dintorni, formazione e scambio di esperienze sulle classi virtuali, per lo più informale, con partecipazione di docenti, genitori e di enti locali. Sabato 20 gennaio invece è prevista per le ore 9, coding, gara di attività laboratoriali per conoscere e capire il linguaggio della programmazione in coerenza con Code Week e con l'ora del codice, dopodiché alle ore 16 è prevista robotica, gara di attività laboratoriali per conoscere e capire soluzioni legate alla robotica e per la produzione di oggetti digitali.